Buongiorno a tutti e a tutte, sono Maria Gigliola Toniollo, CGL Nazionale, settore nuovi diritti. Sono dall'inizio iscritta a certi diritti e posso vantare anche di aver fatto parte dei soci fondatori. Io ti chiedo l'iscrizione perché le nostre organizzazioni che sono molto importanti, anzi assolutamente necessarie e urgenti per la realizzazione dei diritti di tutte le persone possono andare avanti soltanto se saremo in tanti a contribuire sia fisicamente con il lavoro sia economicamente. Grazie a tutti.